Sono stati ritrovati senza vita in una piazzola, poche centinaia di metri da Palazzo del Pero, in provincia di Arezzo, l'uno accanto all'altra, all'interno dell'auto con la quale erano scomparsi ieri da casa. Si tratta di una madre ed un figlio, Dina Sorini di 85 anni e Giacomo Palazzini, 67enne, entrambi aretini. Un gesso estremo dettato probabilmente dalla disperazione, l'uomo avrebbe prima rivolto la pistola, un'arma che deteneva regolarmente contro la madre e sparando un colpa alla testa l'avrebbe uccisa, poi il suicidio. Fra figlio e mamma erano parecchio legati, stavano tutti d'accordo, io guarda sono rimasta proprio scioccata. I due si erano allontanati da casa in via Salvadori ad Arezzo domenica mattina attorno alle 12, a dare l'allarme ieri sera la compagna dell'uomo non riuscendo più a contattarlo. Le ricerche erano proseguite tutta la mattina, attorno alle 12 gli agenti della polizia di Stato hanno ritrovato i corpi senza vita sui sedili anteriori. Gli inquirenti ipotizzano che i due siano morti prima delle 18. Pare che la madre fosse malata da tempo e che il figlio pensionato avesse scoperto da poco anche lui di avere una malattia incurabile. La mamma che non si rivedeva era ancora qualche anno o più, perché dice che era in casa, stava male. Lei fuori non usciva per niente. In auto la polizia avrebbe anche ritrovato un biglietto nel quale il 67enne ha spiegato le motivazioni del suo gesto estremo legato appunto ad una situazione di malattia e alla conseguente disperazione. Un dramma dunque familiare che ha trovato il suo triste epilogo in un boschetto nei pressi della zona di Palazzo del Pero. Grazie.